Montevigine è ferita dalle lingue di fuoco che si sono allungate anche in questi ultimi giorni tra i sentieri che portano al santuario di Mamma Schiavona, distruggendo 8 ettari di bosco. Solo l'intervento di protezione civile, carabinieri forestali e vigili del fuoco e l'impiego dei mezzi aerei ha evitato che la strage dei alberi fosse ancora più devastante. L'inferno, probabilmente scatenato dai piromani, così come avvenne nell'infuocata estate del 2017, sulle origini dei recenti roghi divampati in località toppa spina, quindi nella parte bassa della montagna indagano i carabinieri forestali. La madre di Montevigine, padre Riccardo Guariglia invoca maggiori controlli per evitare ulteriori disastri e avverte le istituzioni. Domenica sera rientrando ho visto proprio la montagna con il fuoco e questo mi ha fatto soffrire molto perché abbiamo iniziato troppo presto quest'anno. Capisco la situazione che forse il terreno già si è asciutto in quanto non è piovuto molto, però vedere che la montagna già è sotto incendi non è una cosa bella. Mi rivolgo soprattutto alle persone, alla sensibilità, rispettiamo la montagna, rispettiamo l'ambiente, cerchiamo di amare soprattutto la natura e tutto quello che la natura può offrirci. Secondo lei a Bate ci sono responsabilità dell'uomo? Non possiamo dirlo questo, però penso che forse la causa umana c'è sempre, invito le istituzioni a stare molto attenti, a vigilare. Io vedo che questa montagna e il partenio in questi ultimi anni è abbandonata a se stessa, vedo le strade che oramai è una strada che sta cadendo a pezzi. Ancora poi, e questo con l'ammarico lo dico e con dispiacere, vedo che la funicolare a maggio ancora non riprende. E quindi questo mi fa pensare molto, che tipo di turismo proponiamo? Non basta Mamma Schiavone e il suo impegno per il turismo. No, 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 ma purtroppo sono molto deluso perché le istituzioni parlano ma non agiscono. Abbiamo una strada che sta cadendo a pezzi. I pellegrini quest'anno abbiamo tante prenotazioni, però trovare la montagna in questo stato, trovare una funicolare ancora chiusa.